La salute viene mangiando lo spazio che ogni settimana dedichiamo all'alimentazione e consigli per alimentarsi, per mangiare meglio e bene. Lo facciamo grazie al nostro esperto, il dottor Salvatore Cusenza, biologo nutrizionista. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno a voi. Stavamo parlando a microfoni spenti di luoghi di villeggiatura. Vabbè, ma a parte questa, ecco, l'estate a tavola potremmo dire. Immaginiamo, dottor Cusenza, un pranzo in spiaggia, quindi andiamo al mare, al Lido, e che cosa possiamo mangiare in spiaggia, al Lido, al ristorante per fronteggiare il caldo, anche il caldo di questi giorni e soprattutto nutrirci bene? Beh, se andiamo in spiaggia io personalmente eviterei il ristorante, perché andare in spiaggia per poi stare due o tre ore al ristorante significa non andare in spiaggia. Non godersi il mare. Non godersi il mare. Quindi non vedo quale sia il senso di arrivare in una spiaggia alle 11, stare mezzo in spiaggia e poi andare a fare la fila al ristorante e alzarsi a tavola alle 3 o alle 4. Però c'è chi ama fare queste cose e lo si vede anche poi, anche dalla conformazione fisica, questa cosa. Andare in spiaggia la cosa migliore da fare è fare un break veloce, che ne so, una bruschetta, un'insalata con un po' di proteine, mi viene in mente l'insalata con un po' di tonno, con un po' di mozzarella, con la sim, dal senso della pepera a casa, con un pet di pollo spezzettato, è qualcosa di semplice, nutriente ma leggero. Quindi sarebbe anche... Pasti frugali. Pasti frugali, certo. Ma anche una macedonia. Con della frutta secca, mi ricordo che l'altra volta ha detto che... Anche aggiungendo della frutta secca per dare un po' di grassi, un po' di proteine. Quindi portarsi magari la famosa schiscetta da casa, un pane e pomodoro, un'insalata preparata, anche un'insalata di pasta fredda, posso immaginare. Sì, poca pasta, poco riso, potrebbe essere un'idea. Un'idea. Io personalmente non sono amante né di pasta né di riso, quindi... Eh, meglio di proteine, vabbè, non la porto. Però magari è per qualcuno che si porta una fetta di pane e pomodoro, qualcosa magari preparata a casa. Ma anche se va al bar e prende una bruschetta, un pane e pomodoro, perché non vuole portarlo a casa. Pasti frugali e non sedersi, mangiare antipasto prima o seconda e poi andare a svenire sul lettino. Poter fare il bagno intorno alle 8 di sera. Allora, tempo di Olimpiadi. Abbiamo ascoltato anche grazie alle notizie, agli aggiornamenti del collega Leonardo Fania. Se si fa attività fisica anche d'estate, bisogna pensare ad un'alimentazione diversa? Certamente sì. Cioè, chi fa attività fisica ha bisogno di un'alimentazione un po' diversa da chi non la fa. Quindi se la si fa d'inverno, bisognerebbe portare avanti quell'equilibrio alimentare per la palestra, per l'allenamento invernale anche d'estate. Logicamente, d'estate, tendenzialmente si riduce un po' l'attività fisica e si aumentano le serate, le feste. Quindi cercare di trovare una via di mezzo, però non stravolgere del tutto le abitudini. Se quando si andava a pieno ritmo in palestra, a correre in piscina, si aveva un determinato tipo di alimentazione, anche d'estate bisognerebbe rimanere con quel regime alimentare, casomai facendo qualche extra in più. Perché si esce di più. Ma non azzerare l'alimentazione che si faceva d'inverno per rifarne una d'estate e stravolgere tutto. Non ha molto senso. Non stravolgere, questo è fondamentale. Anzi, la cosa da fare è aumentare l'idratazione. Perché d'estate aumenta la sudorazione, la traspirazione della pelle, il caldo. L'idratazione si fa con 50 ml di acqua per chilo corporeo. E non le famose un litro e mezzo, un litro d'acqua. Può andare bene uno di 50 kg, ma se pesa 100 kg non va bene due litri d'acqua. Quindi 50 ml per chilo corporeo più un bicchiere d'acqua per ogni caffè bevuto, se lo si beve. È importante anche adesso quando alle 10 andremo a fare pausa a caffè con i colleghi, dobbiamo bere un bicchiere d'acqua. Allora, lei prima parlava di insalata. Quando andiamo al mare possiamo scegliere anche di mangiare un'insalata. Però le famose insalatone estive, a volte magari leggi sui menu dei bar, dei ristoranti, insalata con tonno, pomodorini, mozzarella, gamberetti, mais. Ma non è un po' troppo? Come volume sembrano molto grosse, ma in realtà come quantità calorica, come calorie sono poche, come grassi sono poche, come proteine sono poche. Anche se ci metto il tonno, la mozzarella? Bisogna metterci un po' di tonno, un po' di mozzarella, qualche scaglie di formaggio, qualche noce, qualche mandorla, anche qualche pezzo di frutta. Facciamo un'insalata un po' dolce, quindi un mix. Però se andiamo a vedere la densità calorica è molto più bassa rispetto a un pranzo normale, perché l'80% dell'insalata è fatta da insalata, pomodori, cetrioli, quindi prodotti con l'80-90% di acqua. Però alla vista sembra tanto. Ecco, sembra tanto. E quello è un effetto saziante anche positivo, perché dare volume a un alimento fa saziare. Cioè noi non ci saziamo per le calorie, ma per il volume di quello che introduciamo. Quindi se il volume è grosso, ma le calorie sono basse, è un grosso vantaggio. Un'altra domanda, abbiamo parlato di insalata, io aggiungerei anche un'insalata farrima con olio, no? Quindi a proposito di grassi, ci sono quelli buoni, lo avete detto spesso anche nelle passate puntate. Grassi insaturi. Saturi. Insaturi. Insaturi. Quindi quali sono quelli che non devono mancare mai a tavola? I grassi insaturi, quindi olio d'oliva, frutta secca, avocado, pesci grassi. L'insaturo è insaturo perché nei legami della molecola hanno dei legami liberi, che possono legare i radicali liberi. Quindi hanno un'azione benefica. Il saturo è saturo, quindi non può fare, non può svolgere nessuna azione. Perfetto. Questa è la differenza tra il saturo e l'insaturo. L'insaturo ha un vantaggio. Lega sostanze negative, radica i libri, soprattutto. Stiamo vedendo le mandorle. Mandorle, noci, pistacchi, noci di macadamia, tutta la frutta secca. E l'olio d'oliva. E l'olio d'oliva in primis. In primis. Pesci grassi, quindi tutto questo. Il salmone. Tutti pesci grassi. Ah, bene. Allora, ultima domanda. Gelato e dieta, sono compatibili? Sì, ma non sostituire il pranzo col gelato. Però spesso lo facciano. Se d'inverno uno ha uno o due dolci a settimana, d'estate ne può arrivare anche tre. Cercando di non esagerare con le dosi. Quindi il trucco è sempre quello. Perché non sostituire il pranzo? Perché poi in realtà non è un pasto completo. È vero che ha proteine, grassi e carboidrati, ma in proporzioni abbastanza diverse. Poche proteine, abbastanza zuccheri e un po' di grassi. Sì, ultimamente vedo in giro la produzione di gelato proteico. Ecco. Quindi hanno aumentato il carico proteico di questi gelati. In quel caso va più a sembrare un pasto. Quindi con qualche proteina in più, con qualche carboidrati in meno perché aggiungono degli edulcoranti e i soliti grassi. Quindi in quel caso non dico che va a sostituire proprio un pasto, ma è più equilibrato. Ho capito. Però insomma comunque... Ci sta l'estate il gelato. Ci sta. È sempre l'eccezione. È sempre l'eccezione. È sempre la moderazione che va bene. Se poi pensiamo di mangiare uno o due gelate al giorno non va bene. Non ci ritroviamo più. Assolutamente no. Perché a fine settimana diventano 14-15. 14-15, in tutte le estate diventano 100. 100. E non ci ritroviamo più. Poi ci ritroviamo a settembre, ottobre. E poi ci ritroviamo a settembre in studio. Quando dobbiamo fare i calcoli con quello che è. Allora, noi fortunatamente ci ritroviamo. Siamo a settembre. Sperando di non fare danni in queste tre settimane di agosto, dottor Cusenza. Allora, interrompiamo questa rubrica molto interessante. Quindi speriamo di ritrovarci a settembre con altri consigli. Le prime domande a settembre saranno come rimedi. Perché poi vedremo in palestra, i primi di settembre, tutti che affogliano. Generalmente le palestre si riempiono a ottobre. A ottobre. Perché a settembre c'è ancora una fase di transizione. Vado al mare ogni tanto. C'è le ultime feste. Dal primo ottobre tutti vanno in palestra. Tutti in palestra e si mettono a regime. Quindi attendiamo i suoi consigli. Grazie al dottor Salvatore Cusenza, biologo nutrizionista, per essere stato con noi per i suoi preziosissimi consigli. Questa puntata, insieme alle altre, le trovate anche sul nostro canale YouTube Padre Pio TV. Abbiamo visto anche una email alla quale i nostri amici possono rivolgersi e chiedere dei dubbi al dottor Cusenza. Eccola qui, drcusenzasalvatorechioccio alla gmail.com. Grazie, buone vacanze. Buone vacanze a tutti. Vi nella regia. Grazie a tutti.